Qui ci troviamo al vecchio confine a nord della città di Salisburgo, vicino al Klausentuo. Qui correva l'antica via romana che costituiva un percorso fortificato fino al nord di Salisburgo. Dopo la porta per questioni di sicurezza, era stato costruito anche un ponte-levatoio, che più tardi fu sostituito da un ponte in legno. Da questo lato, dalla parte del centro città, correva la Kstettengasse. Questa Kstettengasse si deve seguire a partire dal nome. Kstetten significava, in medio alto tedesco, sponda. In altre parole, significa che eravamo sulla strada lungo la riva. La sponda della Salisburgo correva da qui fino alla strada, fino a queste rive di case. Dall'anno 1400 furono costituite le case e in parte si estesero fin sulla montagna. Il materiale delle rocce è molto friabile, proviene dal materiale trasportato dai ghiacciai dell'ultima era glaciale. Qui sorgevano molte aziende artigianali, panifici grazie ai mulini che già esistevano dall'altra parte della porta cittadina. C'erano officine di fabbri, produttori di loden. Il loden era ed è un tessuto di lana classico di Salisburgo che molte persone della zona amano portare, soprattutto in autunno e proprio quando fa freddo. Se guardiamo là in alto, sulle rocce, vediamo uno scenario che appare già abbastanza minaccioso. Da là arrivò per Salisburgo la terribile disgrazia del 1669. Per tutto l'inizio dell'estate aveva piovuto interrottamente. La Salzach era alta, come è spesso. Un gruppo di pellegrini di Dürnberg, a 15 chilometri a sud da qui, perse la vita in un incidente in barca. 69 morti da piangere. Due mesi dopo si verificò questa spaventosa frana. L'intera superficie della montagna, qui in alto, cadde su 12 case, sulla chiesa e sul seminario dietro di essa. Fu distrutto tutto. I soccorsi arrivarono e volevano portare in salvo le vittime seppellite. E allora arrivò la seconda caduta di Massi. In tutto si piansero 230 morti. In un solo giorno, un'assoluta tragedia per Salisburgo. Passarono 30 anni e quasi tutti i proprietari delle case erano ormai scomparsi. Prima che si riuscisse a portare via tutti i detriti, prima che si ricostruisse nuovamente la chiesa, che vedete dietro di me. Il seminario fu spostato dall'altra parte della città. E dietro di me sorse il convento delle Orsoline. Oggi la chiesa, greco-cattolica, ucraina, si trova qui nella Makoschieche. La chiesa è uno dei monumenti fondamentali di Fischer von Eallach, che ci accompagnerà ancora spesso in questo nostro tour. Mi trovo ora davanti al monumento del neo-espressionista tedesco Makos Luperz. Si chiama Hommage an Mozart. Hommaggio an Mozart. Se sia anche un omaggio a Salisburgo, non lo so di preciso. La statua è stata molto discussa quando fu eretta. Ma adesso è qui. Ora comunque proseguiremo per la Gstettengasse. Quindi lungo la montagna, fino alla prossima piazza, e là vi racconterò come si continua.